Credito, investimenti, innovazione. Su queste tematiche si incentra il rapporto PMI Mezzogiorno 2017, stilato da Confindustria e Served. Le aziende campane sono in crescita, ma quello che manca è l'approccio sempre più radicale con la digitalizzazione. In Italia infatti sono poche le realtà 4.0, circa il 25%, come sottolinea il presidente dell'Unione Industriale Ambrogio Prezioso. Ci sono luci d'ombre, le luci sono interessanti perché comunque l'export tira nei settori famose 4A, più meccatroniche, più packaging, in settori tradizionali presenti nel nostro Mezzogiorno. Quello che bisogna fare è provare a puntare bene e meglio sulla 4.0 che la nuova manifattura del terzo millennio. C'è bisogno quindi di mettere insieme tutti i soggetti istituzionali e le realtà produttive per far decollare il mondo delle PMI nella nostra regione e nell'intero Mezzogiorno. Così Costanzo Iannotti Pecci, presidente di Confindustria Campania. Non c'è dubbio che noi sul versante della digitalizzazione abbiamo ancora tanta strada da fare. Ci sono ancora aree del paese e del sud in particolare ancora molto vaste dove il tema della digitalizzazione è frenato se non addirittura impedito dall'assenza delle infrastrutture materiali e immateriali. Quindi diciamo io metterei insieme le due cose. Da un lato Union Camera ci segnala un dato statistico inoppugnabile. Dall'altro però non c'è il quale dobbiamo guardare non direi con speranza ma con la soddisfazione di capire che tutto sommato ognuno sta cercando di fare la propria parte.